Tremi Antonio Mannino Ciao Antonio C'è l'applauso C'è l'applauso Ah beh partì un applauso Grazie Me lo faccio io Guarda solo Allora Antonio Dunque Ti dico la mia esperienza Abbiamo avuto grandissimi ospiti Sia del mondo del comics Del mondo della cultura pop Del cinema Eccetera eccetera Che sensazioni hai tu Dal punto di vista Diciamo così Organizzativo Delle persone Dell'area che si respira Vai Tu parli proprio di percezione Allora io penso che Etna Comics Sia ormai un'età Della maturità Insomma della conferma Io mi auguro che Insomma sia diventato Un appuntamento Sia di quelli imperdibili No? Tipo che ne so La spaghettata Le cozze a Ferragosto Che sono imperdibili Cioè Ferragosti mangiano le cozze Oppure gli auguri di Capodanno Sono di quelle cose Che non puoi non fare E quindi Sono un po' prepotente Anche un po' troppo ottimista Nel pensare questo Però insomma mi auguro Che sia diventata Una realtà Imprescindibile E rinunciabile D'altronde Lavoriamo Un anno Per Inserire all'interno Del programma Una serie fittissime D'attività Che accontenti Veramente tutti E questo è quello Su cui sono certo Di essere riuscito Insieme allo staff Meraviglioso Che ho Guarda io ti dico La mia esperienza Intervistando sia Persone del mondo Del fumetto Che persone del mondo Del cinema La sensazione Che sia Diciamo così Fumettisti amici Come Don Alemanno Sia altri personaggi Che comunque frequentano Etna Comics Dicono che non possono Mancare a questa A questo incontro A questa strena annuale Questo fa capire Che fondamentalmente Etna Comics È vissuto in maniera profonda Poi una cosa Che si è confermata Ancora di più È che Etna Comics Ha una componente Molto attenta Alla dimensione culturale Non solo Di mercato Di vendita Eccetera eccetera Ma anche A riflettere Su questi strumenti E ho trovato tantissimi Ospiti Che erano assolutamente Consapevoli di questa cosa Che secondo me È la vera Punto di forza Di Etna Comics Ma considera Davide Che abbiamo fatto Anche se tu prendi Per esempio Le mostre Abbiamo festeggiato I 50 anni di Cavazzano Che è uno degli artisti Di Disney I più famosi Del mondo C'era una mostra Di Eisner Frank Miller Con gli originali Di Frank Miller Che è di fatto Eisner Quello che ha inventato Il fumetto moderno C'erano delle tavole Originali qui Questo per quanto riguarda Chiaramente il comics Un manifesto incredibile Realizzato da Alex Malev Non so se è stato Vostro ospite Ma insomma Una persona disponibilissima Un artistale Con artisti Del calibro Di Camuncoli Di Esad Ribic Di Mirkan Dolfo Di David Lloyd Quindi È chiaro che L'aspetto comics È stato sviscerato In tutti i suoi aspetti A questo si è aggiunto Anche tutto il resto Della cultura popolare Quindi dal gaming Al videogaming Le web star Con una youtube Attrezzatissima E tra l'altro Brillante ed efficiente E un reparto Legato al cinema Che ha avuto ospiti Eccezionali Quindi Per tutti i gusti Davvero Sì guarda Da questo punto di vista È molto bello Perché Ci sono state Un paio di giornate Penso sia ieri Che oggi In cui veramente La dimensione generazione Abbiamo anche Vestiti da cosplay Abbiamo visto Un sacco di persone Abbiamo visto bambini Abbiamo visto Io personalmente Ho carpito Un dialogo Fra un nipote E un nonno Che dice Nonno dobbiamo andare Assolutamente Allo stand E diceva il nome Dello stand Quindi Questa cosa Secondo me È molto bella E fa capire Quanto sia un polmone Vivo Non solo per la città Etna Comics Ma anche per La Sicilia Da punto di vista Dei grandi nomi Che sono riusciti Che siete stati bravi A portare qui Nella nostra terra Sì Questa è La potenza Di Etna Comics La potenza Della Sicilia Ma anche La credibilità Che abbiamo ottenuto Nei confronti Di qualcuno Di loro Che giustamente Ormai viene Tranquillo Perché si sa Che qua Trattiamo le persone In maniera Eccellente Li rimpinguiamo Di ogni genere Di cibaglia E mangiucco Quindi sono tutti felici Che vuoi di più Sì Infatti Una cosa che dicono Soprattutto i nostri ospiti Continentali E fondamentalmente L'aria Il calore Che si respira Quindi è tutto questo Un sistema Di cose Che aiutano A fare bella Interessante Vivibile Una manifestazione Quindi Senti Antonio L'ultima cosa Che ti volevo chiedere Il Tu Praticamente Tra comics Come Diciamo così Direttore creativo Ma in realtà Mente Assieme ad un ottimo staff Ovviamente Ma Diciamo così Ci deve essere una testa Che riesce a mettere insieme Tante anime diverse Tutte Praticamente Lo hai visto crescere Settimana Dopo settimana Mese dopo mese E adesso Finalmente Lo hai visto in azione Perché tu comunque Io ti ho visto personalmente Che schizzavi Da una zona all'altra Per risolvere problemi Incontrare persone Cercare di essere sempre presente Adesso Come Piccolo Consuntivo Perché ancora La notte è giovane Da questo punto di vista Ma come piccolo Consuntivo Qual è la tua sensazione Fra le aspettative Diciamo così Il percorso Che hai fatto Fino adesso E La giornata Come ti senti Ma Davide È chiaro che C'è una stanchezza Incredibile No Quindi Qualsiasi cosa È Macchiata Da questo Stato d'animo In cui Ovviamente C'è un fisico Che non è una macchina Metti la benzina E cammini Un fisico Poi a un certo punto Crolla Quindi C'è una felice stanchezza In questo momento Forse La sensazione più grande Che ho Più Importante E pertinente Rispetto a questa tua domanda Che ho È quella di Di avere la certezza Di avere messo su Una realtà Che poi Dà lavoro Anche a un sacco Di persone Cioè Ragioniamo Tutto quello Che è l'indotto È la città di Catania Che si muove Attorno a Etna Comics È per un imprenditore Un risultato Perché Chiaramente È bello Se tu dai La possibilità Anche ad altri Di poter Girare dei soldi O comunque guadagnare Questo La percezione che ho È quella di aver Messo su Una macchina Grande Che adesso Si gestisce quasi da sola No? Diventa paurosa È come se Io costruito Un palazzo Enorme Sono là sopra Insomma In qualche modo Devo gestire Devo scendere le scale Devo fare qualcosa Posso guardare dal basso Verso l'alto Non è più una cosa Che mi prendo in braccio E sposto E esiste È una realtà A se stante Allora Ringraziamo Antonio Mannino Sottolineando il fatto Che anche noi Condividiamo il suo entusiasmo E il suo piacere Di aver dato vita A questo progetto Vi ricordo A tutti quelli Che ci stanno seguendo Che ancora Però la notte è giovane Perché non dimenticate Che l'area palco Sarà il vero punto di forza Di questa chiusura Di serata Quindi da Davide Bennato E Antonio Mannino E ci vediamo più tardi A più tardi Un saluto a tutti Grazie a tutti